Ciao a tutti sono qui con il primo mini album di Kim Huzong che è il cantante dei The Rose Adoro, adoro la sua voce Ok Uh che cosa bellissima Allora CD Qua credo ci siano le photocard e il photobook Aspettate che... Ok 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 Grazie a tutti. Ok, adesso vediamo le fotocard. Allora, abbiamo... Questa che credo sia una postcard. E poi... Lo stickers. È un tatuaggio. Ah, no, credo sia un tatuaggio. La clean card. E la fotocard. Oh, guardate che carino! No, adorabile. Ok, per questo unboxing è tutto. Ci vediamo nel prossimo. Ciao!